Obiettivo salvezza, sentiva dire così a inizio stagione, in casa Fiorentina e Atalanta, dopo 12 giornate, le due squadre possono sognare qualcosa di molto più grande. Il cross passo verso Toni e la traversa il gol, Gonzalo Rodriguez, Fiorentina 1, Atalanta 0, la firma argentina di Rodriguez. Dennis, il controllo, Dennis, deviato del pallone all'ultimo, la chiusura di Roncaia, ancora Atalanta, Bonaventura, è il pallone che finisce in rete, Giacomo, check Bonaventura, l'Atalanta fa pari al 32esimo. Parte Aquilani, 42 minuti, Alberto Aquilani, una magia, 2-1 Viola. Controlla malissimo, regale, il pallone è a quadrado, il fallo di Cigarini, occhio al colore cartellino rosso, espulso Cigarini. La cross esce male, il tocco di Alberto Aquilani, la doppietta per il 3-1 dei Viola. Aquilani trova spazio sulla centrodestra, un occhio in mezzo, Aquilani, il cross verso Toni. Luca Toni, 4-1. Arriva Borcavalero, Lihaic vuole fare tutto col destro, Lihaic. Un pallone che si abbassa, ma non quanto voleva. Elesk finisce il match del Franchi, vince la Fiorentina, 4-1. Grazie. Grazie. Grazie.